47 anni, originario di Bagna Cavallo e Giacomo Costa, nuovo primario di oculistica all'ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì. La OSL Romagna prosegue così il percorso di assegnazione dei ruoli dirigenziali ancora vacanti. Ho fatto il mio percorso di studi presso l'oculistica di Ferrara, la scuola che è stata di Dalfiume, Verzella, il professor Rossi e il professor Sebastiani. E poi giovanissimo sono entrato a far parte dell'equipe del dottor Gaiba nell'ASL Romagna dove mi sono formato chirurgicamente e professionalmente. Ma vediamo anche quali saranno le sue nuove sfide. Le direttive aziendali sono state ben precise, c'è l'ospedale di Forlì è un ospedale ad alta tecnologia e la chirurgia vitroietinica ben si presta a questo e la sposa a pieno. E quindi quello su cui puntiamo sia io che l'azienda è proprio l'implementazione all'interno però della rete ospedaliera dell'area vasta Romagna di questo genere di chirurgia. Quindi retina medica e soprattutto retina chirurgica, dando molta importanza anche a quello che è l'impatto delle nuove tecnologie come la chirurgia retinica 3D che intendiamo implementare nel corso del futuro prossimo venturo, proprio per l'insegnamento ai nuovi giovani chirurghi, visto che siamo in un periodo in cui c'è carenza di medici anche nel Servizio Sanitario Nazionale, che deve essere a mio avviso invece curato e implementato perché va a vantaggio di tutta la popolazione.